Siamo a quasi tre mesi del suo insediamento in questo nuovo liceo, per lei come si sta trovando? Io mi sto trovando molto molto bene, devo dire che è un liceo straordinario, pieno di iniziative, pieno di progettualità, è un liceo da una grandissima storia e io spero di poter continuare sul solco dei miei predecessori a contribuire a fare grande un liceo che di per sé è già grande. È un liceo molto rodato, ha delle organizzazioni come macchina, proprio una macchina da guerra potremmo dire, per cui è una struttura che funziona benissimo. Ciò nonostante io cercherò dal canto mio di aggiungermi alle grandi professionalità e alle competenze del corpo docenti e del personale ATA insieme con la grande voglia di fare che contraddistingue i nostri alunni, tutto insieme sicuramente si potrà ammirare a un futuro migliore, sicuramente così come lo è stato in questi anni. È un grande onore per me poter dirigere questo liceo e soprattutto poter apportare quelle che sono state, insomma, quelle che sono le mie competenze frutto di una carriera non indifferente, una carriera musicale. Quindi sicuramente metto a servizio di tutti, a servizio della comunità pesarese queste mie competenze e quindi Pesaro città della musica, Pesaro città della cultura 2024 e sicuramente insieme con l'amministrazione comunale ci saranno delle iniziative che faranno parlare ancora una volta molto bene di Pesaro, molto bene del Marconi. Tanti progetti anche in futuro, qualche novità? Beh, allora innanzitutto i progetti già in essere verranno ad essere, diciamo così, ampliati. Ovviamente io sono musicista e quindi per il liceo musicale, per il liceo coreutico sicuramente ci saranno delle iniziative anche di maggior rilievo a livello non soltanto locale ma anche internazionale. Prima parlato del musicale, ci sono anche altri ambiti, c'è quello sportivo, quello tecnologico, insomma coreutico quindi il liceo scientifico in questi anni si è ampliato e perché non lo potrà fare anche in futuro? Sicuramente sì, allora lei ha parlato dello scientifico tradizionale che ovviamente riesce ancora a posizionarsi nelle, penso per esempio alle Olimpiadi di Matematica, alle Olimpiadi di Fisica ma anche agli sbocchi professionali dei nostri ragazzi e consegue sempre dei risultati veramente straordinari. Anche il liceo sportivo ha le sue peculiarità che vengono ad essere valorizzate. Ogni cello internazionale che è anche una sperimentazione unica in Italia che consente agli nostri iscritti e ai nostri alunni di poter frequentare le tradizionali discipline però tutte erogate in lingua inglese. È veramente proiettato questo liceo verso il futuro verso sempre nuovi metodi comunicativi e quindi è al passo con i tempi in avanti rispetto a quelli che sono i tempi quindi è veramente proiettato verso il futuro.